Con questo tutorial parliamo dei luoghi geometrici. Diamo innanzitutto una definizione. Il luogo geometrico della proprietà P è l'insieme di tutti e soli punti del piano che godono di P, dove P è la proprietà caratteristica del luogo. Per poter affermare che una figura è un luogo geometrico, dobbiamo dimostrare che tutti i punti godono della stessa proprietà caratteristica e soltanto i punti della figura godono di questa proprietà. Un esempio di luogo geometrico è l'asse del segmento. L'asse di un segmento è il luogo geometrico dei punti equidistanti dagli estremi del segmento. Per poter dimostrare questa affermazione dobbiamo scomporre la dimostrazione in due passi. Prima dobbiamo dimostrare che tutti i punti dell'asse godono di questa proprietà e poi soltanto i punti dell'asse godono di questa proprietà, cioè essere equidistanti dagli estremi del segmento. Iniziamo la dimostrazione. Quindi andiamo a vedere che tutti i punti dell'asse sono equidistanti dagli estremi. Prendiamo un punto D sull'asse del segmento e uniamo A con D e D con B. In questa maniera restano definiti due triangoli, il triangolo A, M, D e il triangolo D, M, B. Questi due triangoli sono congruenti per il primo criterio perché M è il punto medio di AB e quindi AM congruente a MB per ipotesi. DM è il lato in comune e poi questo angolo e questo angolo sono due angoli congruenti e retti e allora abbiamo lato, angolo, lato e per il primo criterio i due triangoli risultano congruenti. Da questo segue che AD è congruente a DB. Vediamo ora la seconda parte della dimostrazione, cioè dobbiamo dimostrare che soltanto i punti dell'asse sono equidistanti dagli estremi. Allora dobbiamo dimostrare che se un punto D è equidistante, quindi DA è congruente a DB, allora necessariamente deve appartenere all'asse del segmento AB. Fissiamo l'attenzione sui triangoli ADM e sul triangolo DMB. Questi due triangoli risultano congruenti per il quarto criterio di congruenza dei triangoli rettangoli perché AD è congruente a DB per ipotesi, poi hanno il lato DM in comune e poi questo angolo e questo angolo sono tutte due retti e congruenti tra di loro e allora la retta DM è perpendicolare al segmento AB e passa per il suo punto medio e allora la retta che è perpendicolare ad un segmento e passa per il suo punto medio è proprio l'asse del segmento. In questa maniera abbiamo dimostrato che soltanto i punti dell'asse sono equidistanti dagli estremi e con questo terminiamo questo tutorial sui luoghi geometrici.